Seconda sconfitta consecutiva per il Monopoli al Pinto di Caserta. La formazione campana vince per 2-1, ancora una prestazione certamente non convincente da parte degli uomini di Scienza. Scienza che schiere il 3-5-2, cominciando con Menegatti in porta, difesa con Nicoletti, Sales e Mercadante. Sugli esterni iniziano Zambataro e Ghiebre. In mezzo al campo, Giorno in cabina di regia con Piccini e Paolucci, Mezziali. In avanti cominciano Samele e Starita. Monopoli che parte anche bene, dopo poco più di un minuto il cross di Ghiebre all'interno dell'area di rigore, respinto da Avella. Poi Samele non riesce nella deviazione vincente, ma praticamente al primo assalto la Casertana passa. Siamo al 1 minuto, cross di Aziosmanovic da destra, colpo di testa sul secondo palo di Cuppone. E dunque classico gol degli ex con il cross di Aziosmanovic, appunto colpo di testa di Cuppone. Le due con lo scorso anno giocavano in maglia bianco-verde. Prova a reagire il Monopoli al sedicesimo, punizione di Giorno. Sulla prosecuzione dell'azione, poi Starita in fuorigioco sul secondo palo, dopo un colpo di testa. Viene ammonito Giorno, che era diffidato e dunque salterà la partita contro il Foggia. Pericoloso un calcio di punizione di Santoro al diciottesimo, che termina a lato. Una Casertana schierata con il 4-3-3. Ci prova Giorno al venticinquesimo dal limite, il sinistro però è debole. Al trentasettesimo arriva il raddoppio della Casertana, Giosa regala il pallone alla formazione campana. Il destro di Izzillo è perfetto, nulla da fare per Menegatti ed è 2-0. Dunque, dopo un minuto la Casertana sfiora anche il terzo gol con Cuppone, respinge Menegatti. Al quarantacinquesimo un destro di Giorno con Avella, che respinge in due tempi. E in pieno recupero il Monopoli trova il gol che le consente di sperare. Il cross bello di Mercarante, la deviazione a volo di Zambataro, il risultato di 2-1 alla fine del primo tempo. Nel secondo tempo il Monopoli cerca di, sotto la pioggia del pinto di Caserta, cerca appunto di reagire, di recuperare il risultato. Al terzo una rimessa di Zambataro, la sponda di Starita, ma Samele viene anticipato. Ci prova Pacilli su punizione all'ottavo, una punizione che termina alta. Doppio cambio nel Monopoli al quattordicesimo dentro Marilungo e Santoro per Starita e Samele. Ma il Monopoli non riesce a incidere. Al ventitresimo una deviazione di Giose in aree di rigore, il tiro viene deviato in corner. Ultimo doppio cambio per Scienza, al ventisesimo dentro Tazzere e Vassallo per Piccini e Zambataro. Ma al trentanovesimo la Casertana resta in dieci per l'espulsione ingenua di Icardi. Ci prova Ghiebre al quarantatresimo con un destro che termina a lato. Al quarantquattresimo una girata di Marilungo che termina fuori su cross di Santoro. Un giallo al quarantasesimo nel vero senso della parola perché il tiro di Giorno viene deviato probabilmente con un braccio da Conatè. L'arbitro assene il calcio in angolo ma Espelle e Conatè in realtà pare per una gomitata su Paolucci. L'arbitro però non concede il calcio di rigore. Al quarantasettesimo Monopoli vicinissimo al pareggio. Cross di Giorno, la sponda di Giosa Mercadante in ritardo sul secondo palo di un soffio con la Casertana in nove. Ma il risultato non cambia. Casertana batte Monopoli 2 a 1.